buongiorno buonasera buon pomeriggio altro gioco nuovo ma vecchio di che anno è budokai 3 non lo so so che era uno di qui ecco controlliamo mister non c'è scritto vabbè dettaglio e siccome lui non ha portato la sua bella memory card non abbiamo mosse non abbiamo abilità non abbiamo personaggi non abbiamo niente abbiamo solo krill e gol e ovviamente anche goku ma nascete maledetti nascete guarda guarda come nascono la cosa serve un gioco di teraco volano avere le mani veloci molto veloci troppo veloci ma quanti sono dovremmo riuscire a riempire lo schermo una volta vabbè soltanto ecco che i casi su questo gioco non è facile piace la prima volta che va segno oggi non è vero la seconda porta rispetto a crilly e macchie da di più acce di più non si vuole non si vuole caricare o non si vuole caricare non si vuole quindi se non ti carichi sei una sega è veramente dai io credo in te su e macchie e basta no crilly for the win anche dalla sua statura la rivincita carica il posto no dai adesso che mi sto carica io avrò cd e lo dite nel primo video e ti faccio un piccolo che animale solo perché tu hai l'energia guarda che animale la tattica di kridi è questa io non riesco a caricarmi l'ho fatto in allenamento e qua non riesco c'è io tutti i carichi a tuo piacimento guarda quanto hai guardi guarda come ho si presentato dinanzi a me guarda che c'è il kienzan che guarda che c'è l'ho fatto e vabbè che c'è l'ho fatto no sei un animale eh ma va a far cuore e quindi è il più forte non c'è niente da fare lo dice anche in senza che eri stesso adesso devo riuscire a caricarmi e finchè non lo faccio tu stai fermo ti ho detto che devi stare fermo ti ho detto che devi stare fermo Dai fatti sotto, stai fermo, non puo' perché allaura, va, oh, tu devi capire, non c'è niente da fare, quindi sei una sede, no, mi stava creando, tu te ne è prenduto, bravo crey, caricati, ma vai in quel posto, sei un incapace, non se neanche caricarti, perché ho perso fare le ombile in trentico, hai stufato, come ti permetti? fui fa qualcosa, non farti per stare! gagato, e hai un po' stupido, eh? carica il pianista deciso colfonso la io vado a fare la data il che non vencerai il che non mi caricherò tu puoi farlo perché hai l'energia no? Io no! Perché quelli hanno sfigato? Cioè guardalo! Certo potevano farlo anche un po' più semplice il sistema di carica, non mi credi? Sai lamentarti con quelli della Bandai? Ma vaffan cuore! Perché non vai in modalità più forte? Perché Chris Lee? Perché? Perché sei inutile? Porca miseria! Quindi fa schifo, veramente schifo E basta! Oh eviti tutto! Aia! Questo potrebbe essere uno gattivo sai? Oh! Perché le eviti tutte? Perché non combatti onestamente? Sempre evitare gli attacchi! Sì! È tutta colpa del manuale! Perché il manuale insegna a difendersi! E certo! No! Basta! La prima cosa che ho guardato è come difendersi! Sì! Allora! Sia chiaro che questa sarà l'ultima! Ovviamente Chris Lee non vuole caricarsi! Perché non vuole caricarti? Sì! 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 Si sta caricando! Guardatelo! Sì! 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 Bettengami E' scorretto! Non posso fare niente! Mi si è bloccato il joystick! . Ah! Sei scorretto! Però sei scorretto! Mi si è bloccato il joystick! Cioè io per una volta cheитель... Cioè, ma mi sembra... Mi fai qualcosa, Krigli! Mi fai qualcosa! Perché? In comprenso mi si carica come niente. Adesso mi si carica che è una meraviglia, guarda. Guarda, va alla potenza massima e poi non fa niente. È bellissimo. Ah, perché ho avuto due incastrato! Ah, ci ho avuto due incastrato. Ah, chi se ne frega? Sei un animale! Solo così riesci a vincere! Però sei un bastardo, eh. Oh! È un po' che una cauta, eh! L'ho disincastrato, eh! Basta un'onda! L'ho disincastrato! Però sei un bastardo! Però sei un bastardo! Vince solo con i bug del joystick. Vabbè, addio. Anzi, arrivederci.